ci tendiamo a fare questo video per farvi vedere la nuova postazione che in realtà è la stessa di prima non è cambiato praticamente nulla semplicemente ho girato la camera che invece di essere da questo lato qua dove era prima adesso di qua inquadra il muro e c'è il neon il bellissimo neon che non avete ancora visto e che è molto molto figo e quindi ho detto dai facciamo un video anche in cui non so di che cosa parlare ma giusto per farvi vedere la postazione vabbè però colgo l'occasione per diciamo a dirvi due cose la scorsa settimana ho fatto un talk qui a un evento che si chiama b digital a biella e in cui ho parlato dell'identikit del developer del 2023 non voglio diciamo rifare esattamente lo stesso talk anche perché è durato mezz'ora ma più che altro perché lo vorrei portare anche un po in giro per l'italia e quindi non lo spoil cioè non vi dico esattamente le stesse cose perché altrimenti se vi capita di vedermi in giro poi non vedreste nulla di nuovo però per fare questo talk sostanzialmente ho dovuto studiare un po mi sono studiato un po di statistiche e queste chiaramente ve le posso condividere prese da da fonti varie molto autorevoli che evidenziano quali saranno i trend del prossimo futuro dell'ambito dello sviluppo giusto per capire se effettivamente questo grosso timore che l'intelligenza artificiale possa cancellare una professione sia veramente concreto spoiler no non è ancora quel momento fortunatamente però ci sono sicuramente dei dei dati interessanti a cui fare attenzione ve lo dico così poi magari più in là farò diciamo un commento più dettagliato delle statistiche ve lo farò anche vedere nel dettaglio quello che posso dire che da delle survey fatte a livello mondiale ma anche a livello italiano ci sono dei forti segnali che portano comunque un cambiamento della della professione o quantomeno degli ambiti in cui la professione troverà maggiore maggiore impatto più che più che sbocco perché comunque i sbocchi ci saranno sempre però è un forte trend verso tutti quelli che sono i campi della dei dati big data data analysis sono campi che nel prossimo futuro quindi intendiamo fino al 2027 erano queste le statistiche che che ho trovato evidenziavano come il campo della del big data e data analysis saranno quelli che avranno un una fortissima crescita e su cui si investirà parecchio anche dal punto di vista del lavoro quindi opportunità lavorative campi di applicazione della tecnologia e quant'altro segue poi la cyber security che è un altro campo che va di pari passo con l'evoluzione tecnologica e con la diffusione della tecnologia più la tecnologia diffusa più si aprono questioni legate alla sicurezza quindi cyber security è un altro campo molto molto interessante per il futuro terzo campo digital platforms e apps lo sviluppo classico di diciamo di piattaforme digitali applicazioni continuerà a essere un fortissimo trend vuoi perché ci sono tantissime device in circolazione ce ne saranno nuovi piattaforme digitali ormai li utilizziamo quotidianamente non si parla specificatamente di siti web quindi penso che quel campo devo ancora un po indagare a punto di vista delle statistiche ma sensazione che quel campo diciamo dello sviluppo web puro siti commerce e quant'altro possa in qualche modo essere intaccato dall'evoluzione e dagli automatismi dai no code dai low code quant'altro mentre lo sviluppo di piattaforme digitali di per sé sarà comunque un campo che che avrà un ulteriore forte forte crescita cosa diciamo ci portiamo a casa da da queste statistiche peraltro sono confermate anche dai trend di udemy guarda caso il giorno stesso della conferenza è uscito una paper di udemy che parlava mostrava le statistiche lato business dove le aziende tendevano a investire dal punto di vista la formazione e sono esattamente quei campi lì cosa cosa ci portiamo a casa ci portiamo a casa che comunque ci troviamo di fronte ad uno switch comunque una delle ennesime evoluzioni della figura nel tempo evoluzione che ci sono state già nella storia la differenza rispetto al passato che è un'evoluzione molto più veloce nel tempo questa evoluzione ha richiesto anche dei decenni prima che succedessero da un cambiamento all'altro per esempio dall'avvento dei personal pc negli anni 80 all'arrivo di internet sono passati dieci anni nel mezzo le evoluzioni si ci sono state ma non ad una grandissima velocità adesso le evoluzioni si avvicinano molto di più e quindi fondamentalmente abbiamo meno tempo per prepararci e dobbiamo andare invece più veloce con la preparazione quindi nel prossimo futuro chi si avvicina già oggi ma quelli che saranno poi i prossimi che arriveranno ma o chi già deve lo per adesso e evolverà nel tempo dovranno diciamo far fronte a ad un cambio possibile di di carriera ma soprattutto ad uno studio approfondito di quelli che sono campi che magari adesso si sono visti solo un poco o non si sono visti per nulla e che diciamo richiederanno nel futuro di essere molto molto seguiti proprio per via di dove andrà il mondo e il mercato del lavoro da questo punto di vista altre skill che erano interessanti erano emersi da questa statistica erano tutte le skill cognitive quindi tutta la parte di analisi analytical thinking e creative thinking così come anche le diciamo skill che riguardano la leadership tecnica e scusate leadership tecnica di un team tecnico quindi il campo delle soft skills sarà un altro macro trend per il futuro questo è un po più difficile da formarsi l'ho già detto in più di un'occasione però è un campo su cui peraltro un'altra statistica veniva fuori è poco considerato dalle persone cioè le persone tendono a formarsi di più su skill tecniche rispetto a formarsi su soft skills però le aziende tenderanno a invece avere un focus particolare nei prossimi anni proprio su queste skill che chiaramente avranno un impatto maggiore perché le intelligenze artificiali per come si sono volte nella storia per come sono si evolveranno ancora non potranno sostituire sostanzialmente la persona dal punto di vista del del ragionamento e soprattutto dal punto di vista dell'empatia e quindi sono altri tasselli importanti da mettere per quella che è la figura del developer del futuro però ripeto diciamo lascio aperta un po la discussione volutamente perché vorrei che ci fosse un po uno scambio e questo scambio può avvenire qui sotto nei commenti può avvenire sulla community discord sulla community telegram può avvenire su linkedin può venire un po dove vi pare l'importante è che parliamo perché magari da questi ragionamenti potrebbero venire fuori spunti per altri video detto questo io quindi vi saluto vi ricordo sempre di seguire il canale iscrivervi al canale attivare le notifiche mettere un bel like vediamo quanti di like arriviamo stavolta vi ricordo che l'altra volta avevo fatto un video sui corsi di formazione avevo promesso un bel mega video una bella guida su come scegliere il primo linguaggio di programmazione se quel video fosse arrivato a 100 like ancora non ci siamo arrivati quindi forza andiamoci da fare e poi ultima cosa è ancora attivo lo sconto per venire a codemotion dove ci sarò io ci saranno anche altre persone di tomorrow devs venite a trovarci non abbiamo uno stand ma ci troverete in giro quindi se vi fa piacere in descrizione trovate il codice sconto detto questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao